Buongiorno, sono Paolo Sili, responsabile commerciale di Link Industries, al forum antincenio oggi la Link presenta la nuova gamma Firetech, la nuova linea di prodotti che nasce oggi con prodotti, cataloghi, tutto quello che vedete nel nostro stand è appena nato in queste settimane, la Link fa parte di un gruppo più ampio che è la Delvico Osulis, un gruppo che da 150 anni ha portato avanti i settori industriali e oggi vuole diversificare con questa nuova gamma di prodotti, potete vedere qui a fianco l'astre del Magnesio Silicat, certificato secondo le nuove normative europee, in quale possiamo coprire diverse applicazioni dalle canalizzazioni, alle partizioni, ai conti soffitti e questo è il nostro prodotto di punta che vorremmo sviluppare sul mercato. Diciamo che la gamma del Firetech riguarda anche lana di roccia, riguarda anche accessori, riguarda anche applicazioni che vorremmo cercare di inglobare in questa linea e per seguire quello che è il trend di mercato, che è proprio quello di cercare di diversificare e di essere sempre più presenti sul territorio. Abbiamo un ufficio tecnico che è capillare e ci avvaliamo di agenti qualificati che saranno in grado di seguire il territorio, il mercato e i progettisti della partenza del progetto. Grazie.